Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IGVOLT è il sito che va per voi e con il codice FUTITALIACHANNEL avrete anche un 6% di sconto, link in descrizione Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, qui è sempre Libano di FUTITALIACHANNEL e siamo qui oggi con la rivincita dello squad builder in 6 minuti contro Leo Oggi ragazzi andremo ad utilizzare Raffaele del Borussia Mönchengladbach, saluta Leo Ciao a tutti ragazzi, siamo qui per un nuovo squad video in 6 minuti Raffaele ragazzi, grandissimo giocatore, nuovo TOTS Bundesliga, 4 stelle pedevole, 4 stelle massabilità, 90 dribbling, un giocatore secondo me molto divertente Speriamo ragazzi che la sfida sia un po' migliore di quella scorsa e adesso andremo a vedere chi saranno appunto i primi giocatori che dovremo andare ad inserire dentro le nostre rose secondo le solite regole Ok metteremo come l'altra volta prezzo minimo compra ora 10.250 e prezzo massimo compra ora 20.000 Quindi Liva dimmi te che giocatore andare a prendere? Allora io ti direi di andare alla pagina 4 giocatore numero 3 Ok quindi pagina 4, la seconda pagina erano tutti i TOTS erano, giocatore numero 3, Maremma, The Four, The Four If della Pro League Bello Va buono, ok Te Liva vai nella sesta pagina e prendi il quarto giocatore Dai Liva Ok quindi prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, terzo giocatore, Metsudo Silva Quarto giocatore Quarto giocatore, allora attenzione, a sorpresa Trashorras Trashorras del Rayo Vallecano, un giocatore non lento, di più No però è un buon passaggio Mamma mia Sì sì, ha 88 il passaggio, è un buon passaggio Sì l'avevo usato io nello scorso episodio quindi dai Vero, vero Eccoci qua ragazzi, siamo nelle rose, adesso andremo a scegliere appunto il modulo casuale Quindi io comincio a girare, Leo dimmi quando devo fermarmi Ok, ok Stop Ok, un modulo veramente bruttino, il 4511 4511 è quello con 3cc Esatto, 3cc, gli esterni e la punta poi centrale È un po' bruttino Ma io intanto sto girando, sto girando anche con la serie Gira, 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 gira e stop 3, 4, 1, 2 Mai con la difesa a 4, cioè mai Non c'è verso Sia contro Liber contro Mattus Sempre difesa a 3 o 5 Non c'è verso Davvero Quanto meno non sono attaccati Raffael e Defur che non ci incastrano niente uno o l'altro Ok, allora i due giocatori sono pronti, i 6 minuti ci sono quindi li faccio partire adesso, 6 minuti a partire da adesso Vai Vediamo cosa riusciremo a fare stavolta Io spero di far meglio della scorsa volta Io qui un'idea ce l'ho già Spurto, spurto Aspetta, però nella Pro League chi c'è? Andiamo a vedere chi c'è nella Pro League No Dove stai andando a parare? Io so ancora Allora Eh, c'ho da fare un collegamento almeno perché Defur Ah, sono usciti i Toz della Pro League, è vero C'è anche Defur Toz, ma a me ci è toccato dello scarso Questo Dosseri? Nooo, a me non sta crescendo tutto Maledizione Dal Pogo Ti crescia? Eh, non è uscito fuori, ma è entrato al volo Allora, vediamo un po' di qua Sì, sono usciti, ma era meglio se non uscivano quelli della Pro League All'abbastanza caga C'è nessuno che mi ispira Vediamo Bella lui Noi si va nella relazionalità strane Con il Gana No, io non mi sto spostando di tanto però Vediamo il Gana cosa ci presenta Allora, allora, vediamo un po' un attimo qua Uh, Asari, è anche lui della Pro League però Io lo sposto a me anche Uh, bello questo però no Tu neanche Cos'è questo Asari? Ah, è Toz mi sa Maimma Questo viaggio da fa schifo Allora, vediamo un po' qui Se c'è qualcosa Quanto stiamo col tempo? Che io qua non c'ho Eh, mancano 3 minuti e 10 Siamo circa a metà A metà Io sto facendo Dove sei? Dove è la squadra di quello lì? La squadra è eschisse e sport Buffon Ah no, buffon L'ho detto buffon Invece è un buffon Eh, però Però È anche belga questo Se non è Attenzione Non è qualcosa di interessante Avremo un po' di belga in questa squadra Però perché no Perché no Quindi metterò anche compa, no? Eh, in mezzo Eh, io pure guarda Che sto fermo su due campionati Io per ora ho messo Mondesliga Pro League Tartish League Serie A Bartis Cioè di tutto Di tutto Madonna Di tutto Di più Quanto Quanto 2 minuti Ok, 2 minuti Per 3 giocatori Ce la posso fare Qui mi serve una doppia intesa Con Company Che poi va a collegarsi Con l'esterno destro Fammi pensare Esterno destro Serie A Andiamo un pochino Oddio Forse ce l'ho Forse ce l'ho qua Uno Andiamo un po' Vai lì va eh Se faccio questo giocatore qua ho finito Te dico solo questo Te lo trovo che c'è Ho finito Vediamo un attimo Vediamo un attimo Allora Manchester City C'ha Mangalà in difesa Poi Tu sei perfetto Da parte company Otamendi 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 è argentino Sì 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 Molto forte Otamendi Potrei mettere a saldi Oppure Alla destra Vedere Alla destra C'è qualcuno I turbe Beh i turbe I turbe è cattivo Oppure i pia piani E Mangalà Ancora più cattivo Manca 50 secondi Ok ok Dove sei Mangalà Mangalà Dove sei Eccolo Ok mi manca l'ultimo giocatore Che deve essere Eh come deve essere Della bundes francese Mi manca l'ultimo Curame è l'ultimo Della bundes francese Dai Provai la bundes Bundesliga Attaccante Francese Dimmi che c'è qualcuno Coman 69 O modesto Coman Dai Coman 69 Ci mettono anche un argentone Manca 7 secondi Devo solo spostare Come il coc Torgenasarma Poi il resto È tutto a gusto Quindi ci vediamo Con le squadre completate Andiamo a vedere un po' Che squadra ha fatto Leo ragazzi Coman Solo 69 C'è ammazza Non me l'aspettavo Eh sì È la sua prima versione Mi ha messo Dai la mia è un pochino più forte Eh un pochino Sulla carta Sì E anche sul modulo Visto che il mio È anche se Esatto esatto Il tuo difesa 3-4 Con Neymar È un pochino più facile Esatto esatto Vabbè Vabbè Staremo a vedere Però Cioè Nainggolan Io non posso Non posso Vincere contro Nainggolan Quindi se perde È solo per quello Il ninja Il ninja Ecco subito Neymar Può puntare Mangalà Neymar E Mangalà Non si passa Non si passa Eh sì Però se gliela passa lui Raffael Lentissimo Dai dai No Vai Trashorra Spazio Mamma mia Il ninja No Raffael Come si è girato Grande Raffael Malissima Malissima Ah no è Boateng Ma come Io già stavo Luggiando Raffael Dove è Raffael Lui la punta centrale Dove sta giocando Ma che ne so Ma che ne so Dove era andato Vai che è partito Quello Fuori gioco un'altra volta Stai fuori gioco Raffael Stai testa rotonda Si avrebbe fatto malissimo Ciò Buona Kevin Buona Kevin Adesso Niente Si è spaccato Kevin No Magari era anche Calciutano Davvero E poi tu si rialzo Sta bene però Buono lì Dai Torgen Bravissimo La botta di Torgen 1-1 Trentesio Parità Grande Torgen Il grande Hazard Ecco Hazard è facile Però eh Eh ragazzi Vabbè te ce n'è Mario C'è Hazard Buona così Girati Vai Raffael Che nessuno La prende Vieni là Ma che è sto tiro Bravo Ma io poi dico Sempre Raffael Ma era Tiago Ma dove cazzo gioca Il mio Raffael Vai tra Shorras Lancia Boateng Anche Kevin Kevin si ferma Kevin Ancora una finta Kevin Tenta di passare Kevin Kevin è andato Eccoci No Ma perché te la passo Ma perché non tiri Ecco Questo è Raffael però È lui La testa rotonda così Ce l'ha solo lui Ma no Ma no Ma io ho rinviato in avanti Quello la passo in mezzo Io avevo tirato più o meno 6 ore prima Alla fine ha fatto un tiro Indecente Sì No Che io qua guaggia La palla arriva qua Io tiro Ho provato a fare anche Il fancy goal Non va al portare Luffon si butta Assalta il difensore Cioè Tieni in primo tempo dai Statistiche Due tiri Due tiri Due tiri Due tiri Due tiri in porta Due gol 100% Si può dire cinico Un libano Grandi successi Ops Buono Dai No Il tiro Oddio Oddio Che comando Chi è Non lo so Il nero Ah c'è un pong Ah c'è un pong Ah c'è un pong Me lo sento Sì grandissimo L'eroe Che giocatore Che giocatore Vai di là Vai faman Vai faman Vai il pallonetto Corto Bravo Corto Corto Grande Grazie Vai Kevin Vai Kevin Tira Morca broia Oddio quanto c'è mancato L'ho vista dentro Eh io pure Quello è il classico Che si è tirato all'angolino Perché ti sovrapponi lì Bella è nostra No Finisce qua Finisce la partita Finisce anche qua Uno a uno Sì sì Due a due Due a due Sì due a due Scusi Due a due Un pareggio Mio migliore Mio migliore di campo È portiere Trapp Guardate i tiri Aspetta mi guardo anch'io Guarda i tiri 13 tiri Però Raffaella Anche qui A me non è piaciuto Che era anche Almeno nel mio Non ci sono riuscito A giocare Non è piaciuto No sinceramente Con tutto che è riuscito Anche a far gol 90 dribbling Non l'ho visto Quindi niente ragazzi Anche per questo Episodio Diciamo Se così vogliamo chiamarlo Non sono riuscito a vincere Ottengo soltanto un pareggio Nonostante la mia squadra Questa volta Fosse leggermente migliore Anzi Diciamo migliore Di quella di Leo Siamo andati meglio Dal punto di vista Vabbè ma io avevo A Champong A Champong Era OP Comunque Era OP Più di tutto Diciamo che Dalla parte della costruzione Della squadra Siamo andati meglio Dobbiamo guadagnare un po' Dal punto di vista Del gioco Almeno quella Almeno non c'hai bronzi Se decida a facciare Se comunque volete Altri video di questo genere Sia con me Che con Leo Scrivetecelo qui sotto Fatecelo sapere Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Ed iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Da Libano Da Leo E da anche Luigi Che lavora sempre dietro A questo nostro lavoro Che voi vedete È un tutto Esatto esatto Non si vede Molice sempre Un saluto Ci vediamo alla prossima Bella Be yourself Stay ignorant Ciao